Genova 1547, la congiura dei Fieschi, molto sanguinosa, la famiglia dei Fieschi contro la famiglia Doria, in particolare Gianluigi Fieschi contro Giannettino e Andrea Doria. Cos'era successo una quindicina di anni prima? Il padre dei Fieschi, Sinisbaldo Fieschi, molto ricco appartenente alla nuova nobiltà, era in affari, diciamo, col Dori, appartenente alla vecchia nobiltà. Il Doria a un certo punto gli dice, senti, guarda, io sono in buoni contatti, ed era vero, in buoni contatti col Carlo V, re di Spagna, ti faccio avere delle terre, ti faccio avere investiture, però mi devi prestare dei soldi, e Sinisbaldo un po' ci casca, incomincia a dare un sacco di soldi ai Doria, i Doria girano parte di questi soldi a Carlo V per fare le guerre, però alla fine Sinisbaldo ne dà tanti, tanti, tanti di soldi, che rimane senza soldi, rimane proprio senza soldi. Diamo una sola cosa ancora forte, la porta degli archi, praticamente da questa porta degli archi entrano tante merci e lui prende una percentuale su queste merci. A quel punto anche lì il Dori dice, senti, dammi questa porta, e ti diamo noi 4.000 lire l'anno, più, diciamo, l'esenzione dalle gabelle, nel senso non paghi le tasse su quello che ti entra della tua roba dagli appennini, perché loro avevano gli fieschi, avevano possedimenti e castelli negli appennini. Sinisbaldo dice, va bene, ci sto, comunque 4.000 l'anno, non pago le tasse, un po' mi rimetto su. Purtroppo il colpo non gli riesce a Sinisbaldo di rimettersi su, perché muore di morte naturale. Rimane la moglie, rimane la moglie col bambino, con i bambini, il più grande Gianluigi Fieschi, che ha la stessa supergio età di Giannettino, il figlio di Andrea Doria. La moglie rimane, è una della rovere, rimane però, non può mandare avanti il palazzo di famiglia, manca l'uomo forte, manca il marito, si spende troppo, decide con il prendere i bambini e portarli tutti al castello di Monteggio, che si trova negli appennini. E il presidente dice, no, non possiamo più vivere a Genova, ci costa troppo, non riesco a governare un palazzo come quello di Vialata, che ha un palazzo grossissimo, quindi andiamoci agli appennini. Gianluigi ci rimane male, però per quanto ci rimane male, rimane con la mamma e quindi va sugli appennini, va sugli appennini, diventa adolescente, diventa un po' più grande, a 19-20 anni si sposa, si sposa con Eleonora Cibbo, una della famiglia famosa, famiglia nobile dei Cibbo, e ritorna e decide di ritornare a Genova. E qua nasce la congiura, perché lui ritorna a Genova con Eleonora Cibbo e Giannettino, che aveva la sua stessa età, erano bambini quando lui aveva lasciato Genova, è diventato grande quanto lui, a 20 anni quanto lui, incomincia un po' a prenderlo in giro. Sei povero, lui è al palazzo di Vialata e succede qualcosa lì, Giannettino lo umilia, i rapporti sono tesi, sono molto tesi fra i due, però Giannettino Doria ha alle spalle la famiglia Doria, suo padre ancora vivo, mentre Gianluigi Fieschi ha solo i fratelli. La storia continua per qualche anno, è dove Gianluigi Fieschi incomincia davvero a avere sempre più rabbia, avere sempre più intenzione di uccidere i Doria. E l'odio incomincia davvero a fomentare verso se stesso l'odio, verso i Doria. Succede che ne parla con i fratelli, i fratelli diceva bene, che non sono grandissimi, sono piccoli, però va bene, va bene. E succede un'altra cosa, Giannettino Doria si marita, si sposa praticamente, diventa il marito di Ginetta Centurione. I Centurioni sono la famiglia più ricca di Genova. Gianluigi pensava, aveva sempre pensato che quel posto, quel matrimonio doveva aspettare a lui, invece sta aspettando a Giannettino, è come se Giannettino avesse preso tutto. Andrea Doria ha rubato tutto da suo padre e Giannettino sta rubando tutto da lui. Questo è quello che avviene nella mente di Giannettino, ma attenzione perché a Genova comunque la situazione è abbastanza critica, perché ci sono i nuovi nobili, i fieschi, e ci sono i vecchi nobili. Addirittura la situazione è così critica che si alternano ogni anno i doggi, una volta uno dei vecchi, una volta uno dei nuovi, uno dei vecchi, due nuovi, dei nuovi vecchi, dei nuovi, perché la situazione è proprio in bilico e quindi è una situazione abbastanza florida per fare una congiura, ma già c'erano state tre di congiure. E di queste congiure ho preso nota, una era stata di un prete, Valerio Zuccarello, che viene scoperto e subito lo decapitano, gli tagliano la testa con un colpo di spada, un colpo secco. Dove c'erano stati i fratelli Fregoso, che si erano fatti prestare 12.000 fanti, 12.000 fanti dal re di Francia, arrivano vicino a Genova, ma la città di Genova non si ribella, quindi fanno dietro fronte, dicono guarda, se non abbiamo la città, noi anche se entriamo con i fanti, dopo ci massacrano, la città è verso i Doria, e quindi questo fallisce. E dopo ce n'è una stranissima, ci sono i lasagna, la famiglia lasagna, specialmente la famiglia Adorno, che stanno complottando, appunto stanno preparando un complotto contro i Doria, però per comunicarsi fra di loro utilizzano un prete, un frate Badaraccio. Questo frate Badaraccio cade in un semplice controllo, c'è un controllo semplice, c'è la polizia del senato che controlla un po' tutti, praticamente perquisisce un po' tutti una taverna, sono in osteria e una taverna, trovano delle lettere, leggono queste lettere che sono lettere appunto che parlano di congiura, prendono questo frate e incominciano a torturarlo e lui fa il nome, ovviamente degli Adorno, lasagna, ma fa anche il nome dei Fieschi, però i Doria dicono, vabbè i Fiesco, vent'anni, figurati, non ci spaventiamo, lasciamo stare, facciamo finta che questo nome non l'abbiamo mai sentito. Eppure lo sentiranno un anno dopo, giro il foglio con qualche appunto che ho preso, lo sentiranno appena un anno dopo, perché già Luigi Fieschi non ce la fa più e decide di uccidere i Doria, padre e figlio. E cosa succede? Incomincia lui a chiedere aiuto, chiede aiuto al re di Francia e il re di Francia dice va bene, va bene, io ci sto perché i Doria sono troppo vicini al re di Spagna e non mi sta bene. Fate conto che la nuova nobiltà faceva più affari con la Francia che con la Spagna, quindi aveva più interesse davvero ad andare verso i Fieschi e verso il re di Francia che verso i Doria e verso il re di Spagna. Comunque lui ha questo appoggio d'area di Francia, va dal Papa e il Papa gli dice sai io non mi posso esporre però ti mando mio figlio, sono i Farnese e gli manda il figlio e il figlio dice va bene, facciamo così, io ti mando quattro galè, due le teniamo fuori dal porto e una o due te le faccio entrare dentro con i miei uomini. Benissimo, sono contenti i Fieschi, sono pronti a fare finalmente questa congiura. preparano anche gli uomini degli Appennini, i loro uomini, almeno 100-120 uomini armati e allenati, loro avevano chiesto ai loro uomini di allenarsi prima, a uccidere, a fare, erano contadini, erano diventati mezzi militari, comunque sono pronti il 2 gennaio del 1547, è pronto, assolutamente pronto Gianluigi Fieschi e fa una cosa, ne fa due di cose particolari, una prima deve tranquillizzare i Doria, allora lui si va a fare il giro vicino al palazzo dei Doria, uno dei Doria lo vede e dice guarda che c'è Giannettina Andrea perché non li va a salutare e lui fa finta, entra nel palazzo dei Doria, li va a salutare, addirittura prende il bambino, il figlio di Doria, se lo mette in braccia, gli fa fare il cavalluccio, ride, scherza con i Doria, proprio come se fosse una festa, una scenetta idilliaca, lui che parla con i Doria come vecchie conoscenze, conoscenze di famiglia, quindi i Doria sotto quel punto di vista sono un po' rassicurati, perché dico questo? Perché c'è una strategia delle voci, il re di Spagna, il Gonzaga aveva avvertito il re di Spagna, aveva detto guarda che ci dovrebbe essere una congiura, ho sentito voci di congiura a Genova, vogliono uccidere i Doria, il re di Spagna manda subito un'ambasciata ai Doria, dicono guarda che vogliono uccidere, abbiamo sentito che c'è una preparazione di una congiura, ma i Doria devono fare finta che loro lo sanno, dicono no sappiamo tutto, è tutto sotto controllo, perché? Perché il re di Spagna voleva prendere Genova, se loro gli avessero accordato il fatto di essere protetti dal re, un giorno o l'altro il re avrebbe detto guarda Doria tu non mi servis più, Genova me la prendo io, quindi per essere diciamo testa a testa, per dimostrare che la Repubblica di Genova è ancora viva, gli dicono al re di Spagna no guarda non ti preoccupare, tutto sotto controllo, ma non lo era, arriviamo che i Fieschi e Gianluigi praticamente ha fatto questa scenetta idilliaca con i Doria, va in città, ha un appuntamento nel suo palazzo di Vialata con gli altri congiurati, però ne prende altri, prende altri nobili nuovi per strada e dico guarda venite a cena, venite a cena da me, sto facendo la cena, davvero fa così, sto facendo la cena, sto preparando la cena, siamo tutti, siamo un gruppo di amici, gli altri nobili vanno là, pranzo, cena, dovrebbe essere intorno alle 4, vanno, entrano nella stanza del palazzo dove c'è questa cena, questa riunione, vedono che incomincia a esserci qualcosa di strano, troppe persone, lui non c'è più, è sparito, fino a quando Gianluigi entra con l'armatura e dice signori io sto andando a fare la congiura, sto andando a uccidere territoria, ci riprendiamo la città, ci riprendiamo la libertà di questa città, i giovani nobili sono giovani, sono davvero giovani, quindi c'è chi ci sta, c'è chi dice va bene, dopo ti aiutiamo, non ti preoccupare, ma ce ne sono due, i bava, uno un certo bava e un certo giustiniano che dicono no no stai sbagliando, stai sbagliando assolutamente, dice sì sto sbagliando, li mette in prigione nella galera del palazzo, c'erano due, una scella praticamente, li porta a congiura finita, ce la discutiamo questo, però adesso devo andare a fare questa congiura, esce, esce e fa entrare, praticamente lo succede, i suoi uomini, questa è una cosa che fra mezza leggendo altra, i 120 uomini degli appennini erano entrati alla sparuta dai diverse porte di Genova e si erano nascosti nel palazzo, lui avevano nascosti 120 uomini, era grandissimo quel palazzo, avevano nascosti 120 uomini, escono e gli dice guardate andate a prendere con i suoi fratelli, andate a prendere le porte e loro riescono a prendere le porte, riescono a bloccare tutte le porte e a far entrare gli uomini di Farnese, con gli uomini di Farnese cosa fa? Lui va al porto perché là ci sono le galee, le grandi navi dei Doria e lui vuole liberare gli schiavi che aveva 300-350 schiavi, così lui ha questa sorta di contingenti, i suoi uomini più gli schiavi, lui è convinto di potercela fare, vanno al porto, però trovano un po' di resistenza, poca, poca, perché nessuno se ne aspettava, lui riesce a prendere le navi, ci sono anche le navi mandate dal Papa, dal figlio del Papa, questi, diciamo, gli uomini delle navi del figlio del Papa scendono pure, c'è una colluttazione, eccetera, eccetera, riescono a liberare gli schiavi che sono tutti arabi praticamente, questi schiavi di andare contro i Doria, di entrare a Genova non gliene frega niente, vogliono solo scappare, quindi incominciano a slegarsi, incominciano a prendere la galea, incominciano a vogliono andarsene, proprio vogliono andarsene, lui per fermarvi Gianluigi Fieschi passa da una nave all'altra perché deve entrare in quella nave e dire fermate che state facendo, però che succede? C'era un ponte di legno fra le due navi, una nave si chiamava la Capitana, lui doveva andare nella nave Padrona, c'è questo ponte di legno, crolle il ponte di legno, lui cade in acqua, ha l'armatura, questa armatura è pesante, lo tira giù e lo uccide, muore annegato. Nel frattempo, nello stesso preciso momento, cos'era successo? Due di questi arabi schiavi erano scappati a piedi, Giannettino li vede, li vede dalla sua stanza, vede questi due arabi a piedi che sono parte dei suoi schiavi, c'è cosa succede? Una rivolta che sta succedendo? Va verso il porto, appena entra il porto, gira il vicolo, entra il porto, viene preso, viene colpito dai congiurati che dicono, c'è Giannettino, c'è Giannettino, lo colpiscono, Ottaviano Fieschi, che è il fratello, per essere sicuro lo incomincia a infilzare con la spada, 5, 6, 7 volte, fin quando ormai Giannettino Fieschi è morto, ovviamente. Però incominciano a chiamare Gianluigi, scusate, Giannettino Dori è morto, incominciano a chiamare Gianluigi, Gianluigi dove sei? Abbiamo ucciso Giannettino, oh Giannettino è morto, dai, Genova è nostra, Giannettino è morto, Giannettino è morto, ma Gianluigi era morto pure, perché era caduto in acqua con l'armatura. I congiurati, questo è un segnale sinistro, bruttissimo, capiscono che qualcosa non sta andando bene, il primo a scappare è Ottaviano, Ottaviano scappa e va a Palazzo Vialata e si chiude dentro il palazzo con gli altri, perché capisce che ormai è fallita, anche perché il popolo incomincia a guardarli male, male, male. In 300 gli arabi, gli schiavi, riescono a uscire con la galea, dopo verranno inseguiti, non verranno mai presi e questi 300 arabi diventeranno dei potenti pirati del Mediterraneo per tanto tempo, ma questo è un altro discorso. C'è un'altra, gli altri che sono gli uomini di Farnese vanno nella galea con altri genovesi, si chiudono nella galea, loro capiscono che sta succedendo qualcosa, nel frattempo Doria, Andrea Doria, dicono guarda che hanno ucciso Giannettino e lui capisce che non può reagire in quel momento, quindi scappa anche Doria, nessuno non segue, ma Doria scappa, l'unico che può prendere in mano il tutto è il Senato di Genova, il Senato di Genova prende in mano tutto, la situazione ormai è calma, è di una calma strana, con dei morti, con gli schiavi scappati, ma nessuno sta combattendo in quel secondo, quindi cosa succede? Il Senato dice aspetta, risolvemo questa situazione, prendono degli ambasciatori, vanno al palazzo violata, bussano e dicono al Fieschi che avete fatto e quelli sei abbiamo tentato, il Doria aveva fatto male, dice aspetta, andiamo dal Doria, Doria che facciamo? E poi Doria fa senti, chiudiamola qua e diamogli un salvacondotto ma se ne devono andare dalla nostra città, a quelli non aspettano altro e decidono di scappare, scappano tutti i congiurati, dopo due, tre, quattro giorni che il Doria è ritornato a Genova, proprio quattro giorni dopo la congiura, il Doria dice aspetta, adesso che io mi sono ripreso tutte le mie forze, i miei uomini, il Senato è con me, li voglio a tutti i morti, gli hanno ucciso il figlio, gli hanno ucciso a Giannettino e li vanno a prendere, a uno a uno li vanno a prendere e l'ultimo a resistere è Gerolamo Fieschi che dentro il castello, praticamente riesce a resistere per alcuni giorni ma dopo viene massacrato, vengono tutti decapitati, il corpo di Gerolamo Fieschi, di Gianluigi Fieschi viene preso dal porto e viene messo là, praticamente lo mettono in esposizione per due mesi, dopo quando ormai è talmente putrefatto lo vanno a buttare a mare perché non gli vogliono dare il funerale, il castello viene rasato solo ma viene rasato solo anche il palazzo di Vialata che era il palazzo dei Fieschi e non solo, tutti i loro possedimenti e i possedimenti di tutti quelli che avevano, che erano stati invitati a quella scena, vi ricordate la scena e nessuno aveva parlato? Tutti i possedimenti vengono divisi fra il Doria e quindi la famiglia Dora diventa ancora più ricca, Carlo V, il re di Francia, anche lui che era uno di quelli che aveva preparato la congiura, viene pagato praticamente, viene quasi, riceve un premio, così come anche i Farnese ricevono un premio, chi riceve questo castello, chi riceve questa cittadina e lo stesso vale per il Gonzaga che riceve una, due, tre, quattro città molto vicine fra Genova e Milano che saranno molto importanti nei secoli a venire per la famiglia Gonzaga. Questa è la storia della congiura dei Fieschi, stranissima, particolare, che non riuscì solo effettivamente perché Gianluigi Fieschi cadde in acqua. Se Gianluigi Fieschi non cade in acqua, quella congiura viene raccontata in un altro modo e la storia della Repubblica di Genova sarebbe stata raccontata in un altro modo. Alla prossima, ciao ragazzi!